Ciao, buon anno! Primo video del 2017, ormai le festività stanno per volgere al termine, manca solo la cosiddetta festa della Befana, l'Epifania. Dopodiché questo video vuole suggerirti di ricordarti che siccome in questo periodo, come tu sai benissimo, avrai fatto qualche abuso alimentare, essendo stato con i tuoi familiari, con i tuoi amici, cene, cenette, cenoni e cose simili, è ovvio che il tuo corpo si trova adesso in uno stato un po' di affaticamento. Quindi quale migliore occasione per ricominciare questo nuovo anno con un detox, una disintossicazione del corpo, in modo tale da renderlo più leggero, più pulito e quindi facilitare tutte le varie attività fisiologiche e per chi pratica anche sport sarebbe opportuno non dedicarsi solo all'attività sportiva senza curare la qualità del proprio sangue che di conseguenza poi va a irrigare tutti i vari organi. Ripeto, l'eccesso di carboidrati, di panettoni vari, che siano vegan o meno, comunque sia, si tratta sempre di carboidrati. Ecco, l'eccesso di questa tipologia di alimento non fa altro che appesantire il corpo, creando anche problematiche di tipo innalzamento del colesterolo, oltre livelli accettabili, fermentazioni intestinali, anche problemi dal punto di vista della qualità del sonno. Perché, ripeto, i carboidrati di cui spesso siamo dipendenti, sei dipendente, vanno a causare molteplici difficoltà a livello fisiologico ma anche psichico, perché si abbassa anche la lucidità mentale. Quindi il semplice fatto di aver fatto qualche eccesso durante queste festività, questo eccesso in modo proporzionale va ad incidere anche sulla lucidità psichica e quindi sarebbe opportuno una detox proprio per creare una situazione più consona. Quindi alleggerirsi attraverso una disintossicazione fa sì che il corpo riprende più vitalità, più energia vitale e di conseguenza anche l'attività psichica fino ad arrivare a livelli sempre più profondi. La disintossicazione io la suggerisco almeno due o tre volte all'anno. Non suggerisco di fare periodi lunghissimi, suggerisco di essere supportati da una persona che abbia già l'esperienza in materia di depurazione. Le cose vanno fatte sempre con criterio, le improvvisazioni, il fai da te, io lo sconsiglio sempre perché non fanno ottenere i risultati desiderati. Per cui ti invito a riflettere su questa possibilità che ti puoi concedere, su questo regalo importantissimo per il nuovo anno che ti puoi fare e questo regalo consiste, ripeto, proprio nel disintossicare il tuo corpo da tutto quello che hai immagazzinato durante queste festività in modo tale da ripartire nuovo anno con più energia, con più salute, con più consapevolezza. Perché ricordati che dal momento in cui tu sperimenterai bene la depurazione, sarai in grado di ripetere questa esperienza quando vuoi tu, senza avere necessità di un supporto come nel primo caso. Spero di essere stato chiaro, ti invito a scrivermi, a contattarmi a academia.detoxstart.gmail.com o info.detoxstart.it. Sono a disposizione per eventuali chiarimenti e dubbi e per supportarti in questo nuovo percorso di consapevolezza in questo nuovo anno. Ciao, grazie.